Siamo intervenuti ad H2O, io lavoro presso l'azienda servizi ambientali di Livorno, abbiamo la gestione del servizio idrico nonché la distribuzione del gas metano su un vasto territorio. Abbiamo investito negli ultimi anni, rivolgendosi a una ditta professionalmente qualificata, per la ristrutturazione dei nostri sistemi di telecontrollo che avevamo. Quindi siamo passati da un vecchio a un nuovo sistema con ottimi risultati. Antonio Allocca, dirigo a TSRL, che è la società, il sistema integrator che ha supportato l'ASA di Livorno per realizzazione del sistema. Noi siamo fra le aziende che hanno la leadership dei sistemi di telecontrollo nell'ambito reti idriche. Abbiamo realizzato con ASA un sistema molto interessante caratterizzato dall'applicazione di tecnologie innovative, dall'integrazione di un impianto che era nato nel tempo e che nelle componenti più anziane ha oltre 20 anni di età e l'abbiamo integrato con le tecnologie più all'avanguardia di cui oggi possiamo disporre, con ampia soddisfazione, ci sembra fino adesso, del gestore e con progetti di sviluppo importanti che mi auguro ci vedranno assieme nei prossimi anni. Sono in corso nuovi progetti perché il telecontrollo è un settore che non può essere lasciato a se stesso, non si può spendere una tantum, una certa cifra che può magari anche importante, abbandonandola poi a se stessa. Va manutenuta e sviluppata nel tempo affiancando e sfruttando quelle che sono le nuove tecnologie.